ciao cara è il primo swap quale lo faccio e lo faccio con le onora creazioni scusa per per la mia laringite ma l'ultima settimana è stata proprio pesante adesso inizio dovevamo mettere che non si vede bene così meglio due pacchettini di materiale ho provato di lasciare i colori con le mie dette questi sono in acrilico dei fiorellini quattro ho messo delle gocce queste sono in acrilico colorate questa vedi che ti ho messo delle cosucce quale si mettono qui aspetta che ti faccio vedere questi qua questi chiodini quale si intromettono non lo so si vede questi chiodini si mettono qui e poi rimane attaccata questa è la lava queste sono pietre dure acrilico sempre acrilico anche questa anche questa è per farti un paio di orecchini guarda hanno qui dei fori ho pensato che ti possono piacere poi questo non lo apro più questo è in lava turchese in acrilico acrilico e questi sono anche vetro non lo apro più sono diverse misure e questo è per la di fiume sono sul blu scuro blu mare di più poi qua ti ho messo spero che ti piacciono questi poi questi cuori in turchese in pietra dura sempre con quelli chiodini vengono qui ti ho messo due per farti un paio di orecchini ti preferisci io spero che ti piaceranno ho messo anche un po di minuteria argento non le apro più perché poi faccio un disastro ho messo anche un po di memory e di un millimetro di 5.5 centimetri mi sembra ho visto che fai molte utilizzi molte le catene ti ho messo anche un po di catena color oro ti ho messo due tipi di lacci per il cellulare poi ti ho messo anche queste così perché le kawaii quale dicevi tu a me non mi piacevano veramente e non essendo le mie mie stile almeno ci ho provato poi le kawaii quale ti ho messo dovevo mettere due cose kawaii non le ho fatte io sono fatte in fimo un paio di orecchini e un anello abbinato e si vedi reglabile spero che ti piacciono ma ti ho detto non sono fatte di me sono fatte di una mia amica quale è brava a queste cose io no e dovevo metterti anche un po di creazioni ho visto che ti piacciono molto i bracciali per questo ti ho fatto un bracciale così un foil glass sul blu e un paio di orecchini abbinati perché a me mi piace essere abbinata spero che non ho sbagliato cara ok poi mettiamo qui poi ti ho fatto qualcosina di estate io ho detto collezione primavera perché eravamo ancora in primavera quando li ho fatti un per metterti al colo una catenina con dei fiori lo so che non ti piace il verde ma lo puoi togliere guarda li ho fatti in tal modo di poter toglierli in caso che non ti piacciono le foglioline questi sono gli orecchini non si vede non si vede ok e poi ti ho fatto per un bracciale guarda pieno di fiori va bene non l'ho messo bene così ricco spero che ti piacerà perché ho i miei dubbi no questa non è offerta è la poi ho fatto un bracciale così di questo di conte del mare guarda con blu un po' di rosso e un tipo di marrone spero che ti piacerà così l'ho chiudito ho lasciato una catenina un po' più larga in caso che la tua mano sarà più grossa se non ti piace lo puoi anche dare giù dipende a me mi piace di più che mi rimane un po' così ok questo è tutto che ho messo in pacchettino spero da tutto il mio cuore che ti andrà bene e fino a là fino a quando arrivate spero che arrivi anche un bacione però arrivederci e baci grazie a tutti